Veneto, tra cui appunto Vicenza. Cambiamo ora argomento, ci occupiamo di maltempo. Infatti dopo il grande caldo di questi giorni, sembra che da domani, o meglio già da questa sera, comincino ad arrivare tempeste temporali. Sentiamo. 4.30. La temperatura di oggi nel Vicentino è tipicamente estiva, indubbiamente sopra la media del periodo, come conferma Marco Rabito, esperto in meteorologia. Siamo avanti di circa un mese, quindi le temperature che registriamo oggi sono quelle tipiche di metà giugno. Ma la situazione è destinata a cambiare, peraltro, bruscamente sin da stanotte. Ecco, quando il ricambio della massa d'aria è tumultuoso, come quello che avverrà durante la prossima notte e nella giornata di domani, possiamo attenderci dei fenomeni temporaleschi con caratteri anche di forte intensità. Il rischio è che la pioggia sia accompagnata da forti raffiche di vento e da grandinate. Potremmo avere delle occasionali grandinate, qualche forte raffica di vento e anche intense precipitazioni concentrate nel tempo e anche nello spazio. A proposito di fine settimana, come sarà? Ecco, il fine settimana inizierà magari ancora un po' incerto nella giornata di sabato e poi avremo una domenica in cui tornerà a splendere il sole.